Il sindaco che sarà eletto e la sua giunta come problema primario sarà quello di restarci, perché da quello che si è capito è questo forse il vero problema. La domanda è a Ziroldo, è l'unico che ha avuto il coraggio e condivido di dire che la giunta precedente è caduta per problemi di urbanistica. Allora, se non si va a tirar via i mali per cui è caduta, chi va su rischia di fare la stessa fine. Visto che lui era dell'urbanistica, si è capito quali sono i problemi e la SIT la vendete, non la vendete e la faccio a lui a posta. L'ha fatta a Ziroldo, ha chiesto, voglio parlare con Ziroldo. Sulla SIT io ho già deciso, non c'è niente da fare, è già del Comune e rimarrà del Comune. Anzi, io propongo una delle prime giunte di indire un concorso di idee internazionale per l'area d'urbano, così che dopo il parco a Hemingway a Liniano avremo il parco a Gregorati a San Michele e in particolar modo a Bibione. Grazie. Grazie. Grazie.